Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di riso 800 grammi di brodo caldo Un ciuffo di prezzemolo Un cucchiaio di capperi sotto sale Cipolla Sale Pepe Parmigiano grattugiato Preparazione Portare ad ebollizione il brodo Buttarvi il riso Coprire e cuocere per circa 18 minuti Frullare la cipolla I capperi e il prezzemolo Sgranare il riso con la forchetta Unire il trito Amalgamare bene e regolare di sale e pepe Coprire e far riposare per 2 minuti Aggiungere Prima di servire Un'abbondante manciata di parmigiano grattugiato Il piatto è pronto Buon appetito Buon appetito